Gentili telespettatori, buona giornata. Il Movimento 5 Stelle è a un passo dalla scissione. Sono cresciuti i ribelli. Si parla di un terzo dei senatori e circa 50 deputati. Oggi pomeriggio, ieri pomeriggio, si parlava di 30-35 politici. Adesso i numeri sono più che raddoppiati. C'è una petizione con oltre 2.500 firme per tornare sulla piattaforma Rousseau a votare perché il quesito dice era ingannevole perché quello che c'è scritto non è reale, non c'è nessun ministero promesso da Draghi a Grillo. C'è un mezzo ministero perché non c'è la fusione con il Mise che è stato dato a Salvini e alla Lega. Tra di loro dicono siamo stati asfaltati da Forza Italia e dalla Lega. Non contiamo più niente, nulla. Anzi, detto con un'altra parola, non contiamo più un bip. Il fondatore Beppe Grillo, o come lo chiamano adesso con distanza, egregio Giuseppe Piero Grillo, in un post suona come un ultimatum. Da oggi si deve scegliere o di qua o di là. Lui non vuole più passare dalla piattaforma perché sa che adesso, cambiando la domanda e facendo capire che non è arrivato il ministero promesso, il voto probabilmente passerebbe al no sulla piattaforma, anche perché i politici sono per il no. Quindi l'elettorato è già spiazzato. Perché i politici sono per il no adesso? Come? Hanno sempre difeso lo stipendio? Perché adesso non perdono più lo stipendio? No, perché è entrato nel governo Forza Italia e la Lega e quindi che i 5 Stelle stiano il governo. L'opposizione, il governo Draghi può andare avanti. Quindi adesso alzano la cresta, alzano la testa. Dopo due anni e mezzo di oppressione, o fai così o perdi lo stipendio, o fai così e finisce l'accredito, o fai così e torni a casa disoccupato, adesso possono alzare la testa e tirar fuori quel minimo di orgoglio personale di partito contro la prepotenza di questi vertici da Grillo a Casaleggio e anche da Di Maio. Non so se vi ricordate quando Di Maio era capo politico, dicevano che lui vorrebbe dei burattini, dei pigiabottoni che eseguono gli ordini. Quindi Grillo, Di Maio e Casaleggio hanno lo stesso tipo di comportamento. Intanto c'è anche un primo addio dopo la svolta pro Draghi, un deputato, se ne va già dal Movimento 5 Stelle. La scissione si avvicina, la base insorge, lancia una petizione per rivotare sulla piattaforma. I senatori sconfessano il loro capogruppo, Giuseppe Piero Grillo, detto Beppe, che interviene per imporre la sua linea. Cronache di un ordinario sabato di un movimento a pezzi sul punto di spaccarsi. Perché Grillo dice che oggi si decide? Perché lui sa perfettamente che per il momento la maggioranza dei politici è per il sì e quindi piuttosto che passare dalla piattaforma Rosso è meglio decidere tra i politici. Loro scelgono per il sì e basta, anche se magari quasi la metà è per il no. Dopo le richieste di venerdì a Rocco Crimi, detto Vito, abbiamo anche Giuseppe Piero, detto Beppe, Rocco Crimi, detto Vito, si svolgono le due riunioni dei gruppi parlamentari. Nel tardo pomeriggio tocca prima i senatori che si sono opposti all'idea di una riunione congiunta, il clima a dir poco orribile. E c'è chi scrive a Ettore Licchieri, politicamente parlando non sei più il mio capogruppo. La riunione si trasforma in una conta con tanto di dichiarazioni di voto. 30 senatori, un terzo del totale, ma c'è chi sostiene che la percentuale potrebbe aumentare, confermano il no a Draghi. C'è chi come Daniele Pesco sbotta sui social. A tutto c'è un limite, dice. Alla Camera dei Deputati sono circa 25, uno su sette. Ma i malpancisti in generale tocchevano quasi 50, più 30 senatori sono 80. Intanto il pugliese Giuseppe D'Ambrosio, alla sua seconda legislatura, lascia il gruppo. Il primo addio di quella che potrebbe essere una spaccatura dolorosa, una fuoriuscita verso il centro-destra, molto consistente. Tutti quei senatori e deputati che erano pronti a passare alla Lega potrebbero adesso fare, alla Lega Fratelli d'Italia e a Forza Italia potrebbero fare il grande salto. Beh, certo, adesso la Lega è al governo, quindi non serve più quell'uno, due senatori per far cadere il governo, 161, tutti quei discorsi che si facevano fine settimana scorsa. Adesso non è più il numero, adesso ci saranno solo dei passaggi che comunque andranno a rinforzare i partiti nelle votazioni. Grillo è furente, adirato, iracondo contro chi spinge per il no. Intanto alle 22 il capogruppo Licchieri, dopo quattro ore di dibattito, promette di cercare una mediazione. È l'ultimo tentativo per tenere insieme il gruppo. Intanto diversi parlamentari, tra cui alcuni considerati vicini a Paola Taverna, propongono un intervento del garante durante una congiunta. Viene sottolineato che è Grillo ad aver indicato i giovani e l'agricoltura come priorità del movimento. Lui, Grillo, si è fatto sentire qualche ora prima con un post che suona come un ultimatum. Da oggi si deve scegliere di qua o di là. Parole che irritano ancora di più l'ala critica. Beh, sarebbe furioso contro chi spinge per il no. Avrebbe anche mal visto di rivotare su Rousseau. Portata avanti l'idea da Barbara Lezzi, quella dei 370 gradi, e da un gruppo di senatori che contestano il mancato rispetto del premier delle condizioni poste sul quesito votato dal base. Anche nei vari territori la protesta della base è forte, anche degli amministratori locali. Luigi Di Maio sceglie di non esacerbare gli animi, evitando di postare la foto del giuramento. Come dire, è meglio stare zitti, perché qua mi fanno giurare da ministro, ma se il governo, cioè se il Movimento 5 Stelle va all'opposizione, io devo dare, come gli altri ministri 5 Stelle devono dare dimissioni. Quindi Luigi Di Maio dice come qui ci sono 5 mila euro di ministero netti al mese in più dei 13 mila, è meglio star zitto, non mettere neanche una foto, perché qua mi tolgono la sedia di sotto e io cado per terra, almeno cado solo sui 13 mila euro netti al mese, non più 18 mila. Intanto l'incantevole Crimi dice non ci sono state trattative con Draghi su ministri, mi ha chiamato con la lista, siamo stati spiazzati dal suo silenzio, ho scambiato messaggi con Salvini e Zingaretti. E così al capo politico è indirizzata anche una petizione per rivotare, partita dai consiglieri comunali 5 Stelle Lombardi. Adesso la petizione è arrivata addirittura a 4 mila firme. Quindi non è possibile sbagliarle tutte, dicono nel chat del Movimento 5 Stelle, lo dice anche Dario Violi, consigliere regionale Lombardo dei 5 Stelle. Nel Movimento manca la meritocrazia, non si fa politica mettendo ai margini le competenze, non si può governare un partito con piccole oligarchie per giunta il lotto tra di loro e non si può pensare di risolvere un dream team raffazzonato. Beh, quello che dice Dario Violi è corretto, non si fa politica mettendo ai margini le competenze. Le competenze sono centrali, non sono ai margini. Beh, diciamo che alcuni big non sembrano preoccupati, se voteranno no, saranno espulsi e finiranno nel misto senza un concetto politico da cui ripartire. Ma tanto voi sapete che i 5 Stelle con la clausola del secondo mandato non hanno più il posto, non sono più ricandidabili nel Movimento. Quindi anche se vanno al gruppo misto cosa cambia? Prendono lo stipendio lì fino alla fine e non devono stare sotto il diktac dei 5 Stelle. Basta stare al gruppo misto senza problemi che lo stipendio arriva lo stesso. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.